Parla Webro 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 Gazzate pure il padre Vabbè Salve ragazzi e bentornati su FNAF 4 Oggi è tornato Il fradillo di lui No Come ti ho chiamato nel primo video che hai fatto con me? Padre Pio Vabbè Chi avrà visto quel video lo sa Avevo detto che A 20, 30, 25 A 20 like Mi avevi ripostato su FNAF 4 L'abbiamo raggiunti 70 e passa E quindi dovevi ritornare mi dispiace Siamo arrivate alla notte 6 Io non sono pronto tu sei pronto stiamo a posto Ma quello cos'è? Oh dove fu? Stavo cercando di scappare l'ho riportato qui col cappio E quindi vabbè dobbiamo cominciare la sesta notte Prima di cominciare vi ricordo di Iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace E attivare la campanella nera per non perdere i video che riusciranno Bravo E raggiungiamo stavolta i 30 like se volete in solito in un altro gioco perché questo sarà l'ultimo video di FNAF 4 che faremo Perché dopo la sesta notte Porcazzo che lo riportiamo Che ne vanno tutti a fanculo Magari un video su FNAF 2 che ne dici? Sì FNAF 2 che io sono già arrivato alla notte 6 quindi vabbè perché ci ho giocato per i cazzi ma gli altri FNAF Quindi direi di cominciare e nel frattempo che inizio vi ricordo che nel link in descrizione trovate i server discord Dove possiamo giocare tutti insieme e non pensavo di ritornare in questa stanza di merda Sicuramente saranno tutti infuriati oggi Come sempre faremo una partita e una partita tu solo che sarà molto difficile Il problema è che non so Oh Foxy! Di già no Eh no di già Foxy No no per il cazzo Foxy veramente Siamo i corsi dietro i corsi dietro i corsi dietro quelli alle porte veloce corri Stava arrivando quella puttanella Quella puttanella Porca Allora Chris abbiamo iniziato malissimo però non ci dobbiamo scu... Stava arrivando vedi Neanche il lunedì mattina già sono morto No ma la sesta notte stanno furiati Vedono un biscotto alla Nutella Buono il biscotto alla Nutella Ma perché questa porta è buggata non senti i passi di quando se ne va? Ma che ne so se stanno andando Ok stanno andando Ok stanno andando Occhio occhio No Foxy Stanno pure così dietro No Foxy stanno pure così dietro è vero madonna No 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 Freddy Dai Dai Andate via andate via andate via che devo controllare pure la porta a questo Portacci tua Bonnie Bonnie Eh t'ho sentito prendendo Siamo alle 2 con la nutella può essere commolliga o senza? commolliga cazzo tu madre puttana tu madre puttana tu madre super puttana non capisco se era un respiro non è dubbio chiuso 5 4 3 2 1 ok foxy 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 vai via ma do sempre con sta bocca aperta e se io faccio questo gioco manco la notte 1 super occhio oh cristo chica hai rotto il cazzo dai che non si può fare la stessa notte vieni qua che tocca a te stronzo vieni dai ti guido io come l'altra volta dai ah muoviti ma mi cagano e vabbè c'è il pannolino vai ah no non c'è il pannolino dai veloce no no perchè no perchè no perchè no mi fa paura sti cazzi hai fatto la notte 5 mi fa più paura una volta no niente vabbè non vuole farlo più almeno devi essere devi stare qui devi guardare devi subire devi piangere bravo così bravo così che si può fare stanotte 6 io mi fermo qua sono disabile per questa notte c'ho stato dietro la porta questa state via da casa mia che ti può fare dopo vado via chiamano la polizia chiamano la polizia la porta 10 niente io non ci riesco lo giuro e il mio altro è qua dopo mezzo secondo sta non c'è dentro la porta non si può fare eh in due secondi già uno sta indietro tu ma non posso prendere uno dei stricciolatti e li tagliali in faccia cioè sarebbe molto più facile la vita con un martello in stanza nel cassetto pronto allora fatevi vedere eh adesso sono paura oh ma dovresti andare in bagno se devo cagare addosso fate via pure voi pervertiti casa mia ma chi vi ha fatto entrare qualcuno di loro ha fatto le copie delle chiave di casa poi le ho fatte tutte entrare io sei uno strumento non lo sai chi ne ha fatto entrare veramente? il bambino è un coglione infatti merita di morire vai via Foxy non ti voglio che sei tu quello che mi fa sempre perdere oh sto qui vai via vai via ma perchè Chica non fa i passi non capisco quando se ne va ma non mi metti i piedi quando se ne viene andato nel culo ma lei cammina volando cioè non è che cammina volando che non è possibile vai via stava già ritornando no mo te vi avevo cacciato sti ca.. vi cacciono tutti da cas- da casa sua guarda ancora sta qua è sempre lei oh bonny perchè non ti fai vedere come mai non ti fa vedere bonny eh ci non fa vedere bonny cioè mi va bene non ti fa vedere oh anche quando sta lì oh oh mi ha levitato in faccia Vieni qua verso la morte Fate via stupratori Secondo me alle 5 sono già tutti impugnati Di nuovo è arrivato, di nuovo Ma dove è Foxy poi? Non mi interessa su dove è Foxy non lo dire Perché poi lo chiami, già lo so Foxy Fate via voi, andate via Chi sta tornando, sento pazzi Eh, quel coglione stava venendo Abbiamo chiamato già lui Che prima non stava arrivando Appena abbiamo Via, vai via, vai via Tento pazzi No No, lui no È lì Perché solo lui adesso? Sì Cazzo Eccolo No, ha riso Vai via, vai via Vai via da casa mia, questo loglione Dove è? No, dove è andato, dove è andato, dove è andato Continua a fare avanti e indietro Eccolo, eccolo Stavo pure per premere per andarmene Vai via da casa mia, per favore Tito del miele Ok, sei andato D'altra parte, veloce Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì sentirmi non so se tu riesci a sentirmi ma che cazzo è successo scusa mi dispiace che poxy non ha la testa ancora è l'orso pervertito è rotto rimarremo comunque i tuoi amici stanno scomparendo tutti piano piano guarda mi piace che stanno scomparendo continui a crederci a questo si è scompato bonnie bonnie vabbè io sono ancora qui ma non è bello te ne sei andato freddy sei uno stronzo come sul security bridge e quel punto in me che ti rimetterò insieme ma io sto bene ma tu ti sono scomparendo le lacrime e il colore dei miei pantaloni sono uguali quindi sembra che ho tipo i pantaloni che mi arrivano negli occhi ciò che ho fatto bene e scompare tutto secondo stella si vaffanculo scott caudo adesso dovevo fare pure l'ex no l'ex no col cazzo fammi solo vedere che cos'è ah i bastardi vabbè nightmare ah penso sia la notte notte 7 no leva come si leva 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 vabbè giusto per provare dai vediamo un po vabbè che sarà mai sento già i passi dopo mezzo secondo ma dire dai tra due secondi e qui ne via alle luna di notte e record però penso che non ci arriverò mai non ci arriverò mai pure inizia una ma cosa si apprende se passi questa notte poi mi danno la figa penso minchia ogni volta che faccio un giro delle porte sono già a tre non è possibile no voxie sono pure così dietro oh le due oh non pensavo di arrivare così lontano voxie dai una testata nelle palle perché se non te la dongo io è schifo le testate nelle palle oh che passi vai via ok veloce torna indietro bimbo stupido stanno tua madre oh vedi che cazzo dietro eh aspetta devo vedere prima la porta eh vedi stava qui ok ma vaffanculo minchia 2 secondi ma che cazzo è ma non potevo girarmi se non mi stuprava buoni ero morto a prescindere va vaffanculo alla notte sempre vabbè ragazzi allora spero che questo video vi sia piaciuto raggiungiamo i 30 like per un mio ritorno cioè io non ho detto niente ha fatto tutto lui iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace attivate la campanellina basta sei zitto attivate la campanellina ti metto in cantina con gli altri bambini quindi come ha detto lui arriviamo a 30 mi piace per un suo ritorno su fnaf 2 poi decido io se iniziare da capo oppure farti iniziare direttamente alla sesta notte però visto che non ti voglio male subito facciamo che iniziamo dalla notte zero però sul tuo account e che sul mio sono arrivato già al sesto quindi addio e addio non rivediamo più stupido in mezzo finalmente te la fa ancora tutti guanti a te a te a te eppure a te no 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 no